Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Luca, capitano dell'Italia per quanto riguarda 90 Min e Star Trek. Oggi voglio parlarvi, dopo aver visto un po' tutte le partite, dopo che si sono formati tutti gli ottavi di finale, di qualche giocatore che mi ha impressionato o di quali giocatori comunque hanno subito una valutazione positiva per quanto riguarda il mercato che comunque è aperto, si sta svolgendo proprio in questo momento, dopo aver disputato le fasi a gironi ad Euro 2016. Sicuramente il primo nome che mi viene in mente è uno solo ed sarà protagonista della sfida che ci attendrà lunedì contro la Spagna ed è quello di Alvaro Morata, attaccante non più della Juventus ma ricomprato da Real Madrid secondo la clausola che sapevamo tutti essere presente, sapevamo tutti anche che Real l'avrebbe esercitata alla fine di questa stagione quindi durante questa sessione di mercato e devo dire che è stata qualcosa di strano. Io tra l'altro sono un tifoso della Juventus e ho visto Morata crescere durante questi due anni, l'ho visto fare gol durante la finale di Champions, mi ha regalato la mia gioia sportiva più grande presente allo stadio, ma devo dire che da tifoso mi sono sempre ritrovato a vedere Morata come quel giocatore che aveva sì grandi possibilità ma che non le aveva mai espresse appieno. Ecco, il Real Madrid si sapeva che avrebbe esercitato la clausola e durante Euro 2016 si si è ritrovati nella condizione di dire o aspettiamo e vediamo se Morata fa un ottimo campionato europeo oppure lo riscattiamo subito, però possiamo anche rischiare di vedere Morata come un flop e che quindi le pretendenti che potrebbero riacquistarlo dopo la riacquista potrebbero addirittura diminuire, potrebbero offrire meno soldi di quanti in realtà se ne stava parlando sui giornali. In realtà Morata dopo le tre partite si ritrova ad aver segnato tre gol, quindi capo canoniere dell'europeo, quindi probabilmente sarà il giocatore che subirà una maggior impennata sotto il profilo economico e devo dire che in questo momento da tifoso della Juve un pochino mi dispiace perché l'abbiamo valorizzato noi. Me lo sono sempre visto come un giocatore non in grado di segnare tantissimi gol e invece ce lo ritroviamo come già detto in cima alla classifica dei canonieri e questo mi fa un po' strano ma sono sicuro anche che giocando all'interno della Spagna, di questa Spagna, di una delle ultime Spagne, parliamo degli ultimi otto anni, dodici anni comunque, di Spagna forte, è normale che poi uno si vada... no, otto anni se dodici sono troppi, è normale che poi uno vada a rifinire l'azione, la Spagna ha sempre giocato con il Forza 9, Morata forse è la prima vera punta, anche se prima punta è esagerato per Morata, che gioca nella nazionale spagnola e che riesce a finalizzare il gioco. Ricordiamo che il campionato europeo di calcio quattro anni fa vantava in attacco come fa al Soe 9 Cesc Fabregas e sappiamo tutti com'è finito perché quel 4-0 ancora brucia. Quindi se devo dire un giocatore su tutti che ha subito una valutazione positiva, secondo me, è Alvarito Morata.